Il blef di un'antimafia fatta solo di parole, questo è raccontato nella sua discussione al processo di appello al sistema montante Annalisa Petitto, che assiste a Alfonso Cicero, parte civile e teste principale del processo. A Cicero in primo grado è stato riconosciuto il risarcimento anche per tentata violenza privata da parte di Montante. I racconti ai PM di Alfonso Cicero insieme a Marco Venturi sono diventati parte integrante dell'atto di accusa contro il panadismo dell'antimafia. Gli imputati in questo filone di processo sono 5, Antonello Montante, il vicequestore Andrea Grassi, Diego Di Simone Perricone, ex capo della security di Confindustria, il poliziotto Marco De Angeli, 6, il generale della guardia di finanza Gianfranco Ardizzone. Un lungo iter di minacce e intimidazioni che si sono perpetrate ai danni di Alfonso Cicero, questo ha detto Annalisa Petitto, minacce che sono state fatte da aprile a luglio 2015. Montante ha continuato a mentire spudoratamente ogni volta che ha parlato alla corte, così Annalisa Petitto e soprattutto ha denominato l'isola che non c'è, quella mole di denunce che secondo l'appetitto sono state inesistenti. Ha sbandierato il suo trolley, ha continuato Annalisa Petitto, dicendo che era pieno di denunce salvo poi non allegarne nulla di queste fantomatiche perché le denunce non ci sono, ha continuato l'appetitto, lui non ha mai fatto nessuna denuncia contro chi che sia. Si è difeso durante le sue dichiarazioni spontanee da tutte le accuse Antonello Montante rimandando al mittente tutto ciò che gli è stato attribuito. In un primo momento ad inizio processo di secondo grado era nell'aria anche l'idea di un confronto tra i due Cicero e Montante che poi non è stato mai realizzato.